Grande fratello. Stefano annuncia che rivedrà Beatrice, ma non Sergio, Greta non vuole. E adesso torniamo a parlarvi di Beatrice Luzzi l'attrice di Vivere Romana e lo stilista di Milano, originario di Gaeta, Stefano Dolce, fra di loro dentro la casa del grande fratello si era creata una bellissima amicizia fra di loro, sempre insieme, sempre a scherzare e a confrontarsi. Stefano Miele annuncia entusiasta che rivedrà la sua Beatrice Luzzi molto presto, addirittura dice che la rivedrà venerdì e quando la rivedrà ballerà con lei per due ore. Ma come ci sono le note liete, purtroppo ci sono anche le note negative. Infatti ricorderete che oltre che con Beatrice Luzzi, lo stilista aveva raggiunto una bella amicizia anche con Sergio Dottavi che si fidanzato con Greta Rossetti. Attualmente infatti lo stesso Sergio si trova a Monza, proprio da Greta e insomma da quello che vediamo hanno una grande voglia di fare sul serio. Ma lo stesso Stefano Miele non sembra per nulla avere gradito questa storia d'amore. Infatti ha sentenziato in merito. L'abbiamo perso. Secondo voi amicizia finita per colpa di Greta? Insomma di mezzo c'è Beatrice Luzzi con la quale non era in simpatia. Non so cosa dirvi di Sergio, sinceramente. Non risponde a... non risponde a... stanno un weekend con la sua famiglia e... venerdì staremo insieme. Zan 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 zan! Non vedo l'ora, voglio ballare almeno due o tre ore con lei senza fermarmi così. La vediamo. Cosa dice Damino? È un po' fuori. Sì. Tu sei fuori. È un po' fuori. Non ti basta neanche una lampada, vedi? Perché? Dolce. No, Sergio non lo so, è sparito Sergio ragazzi. Lì con... non so cosa dirvi di Sergio, sinceramente. Non risponde a... non risponde. lì e quindi sta facendo i cavoli suoi l'abbiamo perso vi bacio tanto 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 grazie a tutti